Stavamo quindi parlando dell'importanza dell'aspetto social, più ne utilizziamo e meglio è. Naturalmente dobbiamo anche tenere conto di quelle che sono le barriere cosiddette linguistiche all'interno di determinati social perché ad esempio non ha senso promuovere su dig.com dei contenuti in lingua diversa dall'inglese, almeno allo stato attuale. Uno strumento molto utilizzato per incrementare il traffico è quello dei cosiddetti siti di social news tra cui ok notizie, zigzag, digita, pubblicizzare sito e via dicendo. Il problema però di questi amplificatori di visite è che oltre a generare in alcuni casi dei veri e propri contenuti duplicati generano delle visite molto veloci, molto rapide, quindi con un rimbalzo piuttosto elevato con un buzzing praticamente nullo perché nessuno si mette a commentare una notizia che viene riportata soltanto in parte e tra l'altro, vista la svolta di cui ancora non conoscevo gli sviluppi contro gli scrapper sites da parte di Google, che è stata annunciata da Google da qualche settimana diciamo che non ha molto senso lavorare troppo su questi amplificatori anche perché nell'ipotesi di una totale essenza di traffico da parte dei motori di ricerca questa pratica senza dubbio andrebbe ridimensionata. Stesso discorso vale per i siti di article marketing se io continuo a scrivere delle recensioni diversificate o scritte bene quanto volete su diversi siti di article marketing non so fino a che punto ci possono essere degli utenti che vanno direttamente nel sito di article marketing perché lo conoscono a vedere un po' se c'è qualche novità sulla loro nicchia preferita può accadere ma è un'ipotesi anche da vagliare secondo un certo spettro di probabilità. a seconda dei casi chiaramente rispondere alle domande per esempio è un modo di ottenere degli ottimi refer che in molti casi non c'è neanche bisogno del nostro intervento diretto perché se produciamo dei buoni contenuti io ad esempio ho riscontrato che molti forum citano il mio sito in altri casi gli acuanswers ho risposto diciamo tra virgolette involontariamente a una domanda che era stata posta da qualcuno chi va in questi siti sa quello che sta facendo quindi in questo caso il referrere è buono e porta visite e diciamo questo a prescindere dall'aspetto SEO di costruzione dei link eccetera stesso discorso vale naturalmente quando veniamo citati da blog simili e famosi quando per esempio nel caso più semplice citiamo il nostro sito in un commento di un blog resta da considerare il fatto che i forum ad esempio non vedono affatto di buon occhio le procedure di autopromozione di self branding eccetera quindi bisogna andarci anche molto cauti con i link in firma non mettere assolutamente i link affiliati e via dicendo un altro tipo di referrere che andiamo a considerare sono gli approfondimenti a tema gli approfondimenti a tema riguardano essenzialmente dei video come quello che state vedendo in questo momento quindi che potete caricare su youtube o su vimeo che hanno un potenziale virale di buzzing molto elevato bisogna fare attenzione però in questi casi a due aspetti il primo è quello legato al copyright naturalmente non possiamo farci pubblicità con dei contenuti video che siano tutelati da diritto d'autore non possiamo neanche pubblicizzare il nostro sito che ha un determinato intento commerciale per esempio su siti come vimeo bisogna guardare con molta attenzione le condizioni d'uso resta inoltre da considerare altre fonti di traffico che solitamente non si considerano che sono diciamo dirette provocano spesso un incremento delle conversioni sul nostro sito non richiedono i motori di ricerca di fatto perché sono legate ai feed RSS alle mailing list che noi cerchiamo di costruire nel tempo cerchiamo di aumentare il numero degli iscritti sempre di più nel tempo e possiamo farlo anche offline questo naturalmente e quindi queste sono fonti di traffico certamente che non vanno considerate rimane il fatto che l'importanza di produrre delle visite da fonti che non siano i motori di ricerca e comunque andranno le cose nei prossimi mesi e nei prossimi anni fondamentale per chiunque voglia fare blog marketing fondamentale per chiunque